Senza rifiuti un mondo possibile? Probabilmente sì, se cominciassimo ad utilizzare veramente tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Probabilmente noi veniamo anche da una tradizione, quella dei nostri nonni, che hanno fatto la guerra e che avevano l'abitudine a buttare via poco, quindi i rifiuti ne creavano poco, da qualsiasi soggetto avessero a disposizione trovavano nuovi utilizzi, nuove applicazioni ed è lo stesso metro di giudizio che stiamo cominciando ad avere anche noi nell'industria, cercando di ridare vita, innanzitutto proseguendo ed estendendo la vita utile degli oggetti di cui abbiamo a disposizione e poi riportandoli in processi di recupero e riciclo dei materiali di cui sono composti. Quindi in prospettiva sì, potremmo arrivare forse non allo zero assoluto, ma sicuramente a una fortissima diminuzione dei rifiuti di cui siamo produttori.